Quando Batman ha sconfitto il regime, gli umani mi hanno chiamata tiranna. Le amazzoni mi hanno ripudiata. Questo fin quando Dreniak non ha mostrato alla Terra la vera tirannia. La gente implorava aiuto e io ho portato loro la testa di Dreniak. Ancora una volta aspetterà al regime ripristinare l'ordine e la pace. Batman e i traditori che si sono schierati con lui saranno puniti. Ancora anche cara sorella. Quindi tornerò ad Enniskir per affrontare le mie sorelle. E se non bastassero le parole, le piegherò con la forza. Così ha deciso Diana, principessa delle amazzoni, assassina di Breivik.